Si sventola il fazzoletto perché fa effettivamente molto caldo negli studi ma noi risparmiamo sia d'estate che d'inverno qui a Telenova per cui quando fa caldo approfittiamo del caldo in generale, dell'alito di tutti quelli che ci sono C'è una bella canzone, straordinaria, che tutti hanno conosciuto perché è stata la colonna sonora di un film che ha avuto grande successo con Patrick Schweitz che purtroppo è morto e con Demi Moore ma che invece è una canzone che risale a lontano Infatti molti la chiamano Ghost, questa canzone risale a lontano 1965 e si intitola Unchained Melody questa sera per noi la interpreterà Tony Ray accompagnato da Camellia La chiamano Chiamano La chiamano Il�� I thank you for your touch I long lonely time And time goes by so slowly And I can do so much How you say I need your love And I need your love God, 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 God You, to me Lonely with us, Lord, to the sea To the open arms on the sea Lonely with us, Lord, wait for me Wait for me I'll be coming home Wait for me Oh, my love My darling I find you for your touch I long lonely time And time goes by so slowly And time goes by so slowly And time can do so much And time goes by so slowly And time goes by so slowly Tu, tu mi, tu mi, oh baby, tu mi, oh, yeah Grazie, grazie, Tony Ray, un applauso a Camelia, Camelia davvero carina, grazie, penso che molte persone a casa hanno avuto il battito del cuore, a proposito di battiti, dottor Mattioli, ma cosa stai facendo?